Sia lodato Gesù Cristo Sforzatevi di entrare per la porta stretta, dice Gesù. All'occasione lo dice ad uomini che reputavano se stessi come santi, cioè come capaci di essere con le proprie forze in virtù dell'osservanza della legge, così come loro la interpretavano e l'applicavano, in realtà non erano fedeli, ecco, con le loro forze di essere coloro che avrebbero ereditato il regno, cioè sarebbero entrati. Ci sono delle evidenti anomalie in questo, ma in realtà quando si percorrono queste strade con questo spirito, le evidenze vengono meno. La prima evidenza che salta fuori e che rimane nascosta a chi non la vede, cioè il soggetto stesso, è quella di credere, di essere convinti che lo sforzo personale possa ottenere un obiettivo soprannaturale. E in questo cadiamo un po' tutti perché, diciamo, io mi sforzo di essere buono, mi sforzo di essere fedele ai comandamenti, faccio le cose che la Chiesa mi dice di fare e dunque in paradiso dovrò andarci. Lo sforzo personale senza il dono di Dio in realtà non è sufficiente. noi non siamo gli autori della nostra salvezza, noi siamo salvati. Lo sforzo personale, quello che Gesù chiede in questo caso, è quello di uscire da questa mentalità perché è una porta larga. ed è una porta larga perché noi inevitabilmente, con la natura umana, cerchiamo di salvare noi stessi la nostra vita, il nostro ego, ciò che noi pensiamo di noi stessi. E siamo noi che ci ritagliamo un profilo di bontà o di cose cattive che vanno tolte, omesse o acquisite e non ci accorgiamo che in realtà cerchiamo la via facile per poter giungere all'obiettivo. La via facile sta nell'evidenziare ciò che noi riteniamo buono, e evitare quello che ci costa sacrificio. E il sacrificio più grande è il sacrificio di noi stessi. Quindi siamo capaci anche di fare buone azioni, ma quando si tratta di comprimere, reprimere o mortificare, per usare un termine più classico, quello che è il proprio egoismo, il proprio ego, il proprio orgoglio, la propria superbia, la vana gloria, cioè la gloria di noi stessi, quella bandiera che noi innalziamo dopo ogni azione, dopo ogni parola, per mostrare a noi e agli altri che siamo buoni, che siamo stati bravi o cose del genere. Questa mortificazione di sé è la cosa più difficile e questa normalmente non lo seguiamo. Questo costituisce una larghezza. Passiamo facilmente laddove noi, ecco, sappiamo mettere i piedi in situazioni che per noi sono possibili, sopportabili, neanche troppo spiacevoli. Ci piace anche fare del bene perché questo ci fa sentire bene, ma Gesù parla di croce. Chi non prende la propria croce e mi segue non è degno di me, non può entrare nel regno. Tutti noi, tutti, siamo così terrorizzati dalla croce, dal male che possiamo ricevere fisicamente, moralmente e psichicamente. Tutti noi, insomma, siamo naturalmente propensi a fuggire quello che ci fa male, che ci ferisce, l'orgoglio, il corpo, le situazioni difficili con gli altri. Cerchiamo di star bene, stare in un luogo dove si sta bene, in un luogo che sia bello, avere quelle sostanze che ci permettono una vita tranquilla, essere circondati da persone che amiamo, gli amici, tenere lontano le persone fastidiose, quelle che ci tediano, quelle che ci danno fastidio, i nostri nemici, tenere lontano quelle che sono anche le preoccupazioni della salute e arrivare così, tranquillamente, al porto della fine vita sulla Terra. Questa è la via larga. E purtroppo non è questa la via. La via è quella dell'amore per Dio che chiede di sacrificare noi stessi per gli altri, perché questa è la spremitura del succo dell'amore vero, che è quello che rimane e che ci permette dunque di avere un valore da presentare di là dal cielo. E dunque, per fare questo, noi abbiamo bisogno di uno che si apre la porta, di uno che paghi i nostri debiti, di uno che ci perdoni, di uno che ci tolga da una situazione di prigionia e libertà dal peccato, da uno che ci aiuti a frantumare il nostro io, da uno che ci aiuti a entrare nella porta stretta, di uno che ci faccia passare laddove noi non vorremmo mai passare. E questo è Gesù. L'uomo perfetto che ha percorso tutto questo, prima di noi, per noi, e poi ci dona il suo aiuto per fare questo. Lo sforzo dunque che ci chiede di entrare per la porta stretta è lo sforzo di rinunciare all'idea che noi ci salviamo da noi, mettendo i piedi o passando laddove, insomma, sembra essere meno difficoltoso, ma di passare laddove invece Dio vuole che passiamo perché è calcolato quello che serve per la nostra liberazione da noi stessi, dal peccato, dal mondo, dal demonio. Per avere questa sorta di liberazione, dunque, la Dio è quella della croce. E se l'accettiamo, Gesù ci fa un dono molto grande. Il primo è quello di riuscire laddove il nostro sforzo non potrebbe mai. Il secondo è di caricare di una dolcezza soprannaturale che non viene dalla soddisfazione delle belle opere, che un po' è umana gloria o vana gloria. Ma ha una gioia, una capacità di sopportare tutto con quella dolcezza che il giugno di Cristo ci dona. E bisogna provarlo. Per portarlo, per porterlo a provare, noi dobbiamo essere disposti a metterci nella situazione. Non è che possiamo provare prima, anticipatamente, o comprendere solo intellettualmente. Nelle situazioni buie, triste, dolorose, penso che tutti, in grado di verso, abbiano e abbiamo provato quell'aiuto soprannaturale che ci fa dire non so come ce l'ho fatto. Mentre tutti mi dicevano disperato, io riuscivo con una forza interiore incredibile a sopportare tutto. a essere anche gioiosa, pur essendo in un momento cruciale. Tutti dunque sperimentiamo più o meno questi aiuti celesti, ma dobbiamo dare il titolo, dare gloria a Dio e non rifugire la croce, cosa difficilissima. La via stretta, dunque. Non quella della vanagloria, della salvaguardia di se stessi, non quella che costruisce la via e sia la giusta, pensando che questo porti al cielo. Perché io sono la via, dice Gesù. Dunque bisogna seguire la via. E' Lui. Il nostro Maestro, il nostro Conduttore, il nostro Salvatore, colui che ci dà il suo Spirito e ci fa essere uniti con Lui in ogni momento della nostra vita senza abbandonarci mai.